Tutto pronto nei campionati regionali per la decima giornata di ritorno su 15 totali. Gli anticipi che apriranno questo turno sono 6, rispettivamente 3 per l'eccellenza e 3 per la promozione. Partendo proprio dall'eccellenza, le Acli Campodipietra ospiteranno all'antistadio di Selvapiana all'Olimpia Riccia. Gli 11 di mister Carmine Rienzo possono dirsi soddisfatti del trend che ha caratterizzato gli ultimi turni, due vittorie e domenica scorsa un pareggio in casa del Roseto. La formazione ospite invece non può dire lo stesso in quanto è stata espugnata dal Boiano con un sonoro 5-0 e questo rappresenta il terzo K.O. consecutivo per loro che li relega in piena zona play-out. Unico obiettivo la salvezza, ma c'è bisogno di grinta e di concentrazione per rimediare ai precedenti insuccessi e guadagnare qualche punto. Gli avversari sono altrettanto agguerriti e con il favore del campo invece punteranno a dar seguito alla serie positiva. Dirigerà ai 90 minuti Matteo Matarese della sezione di Termoli. Match casalingo per il sesto campano che sfiderà la Life. Se i padroni di casa, vittoriosi contro il Venafro e per ultimo contro l'FVP Matese per 4-1, sono pronti a scendere in campo per accaparrarsi un'altra vittoria, gli ospiti, giovani e volenterosi, purtroppo stazionano ancora in ultima posizione e non riescono ad abbandonarla. Ne è testimone la schiacciante sconfitta contro il Termoli per 9-1. Il sesto campano non si lascerà certamente sfuggire la ghiotta occasione di domani, fischietto designato Davide Mastroianni della sezione di Isernia. Altra sfida tutta campana sarà quella tra Treppini Matese ed FVP Matese, di scena al Ferrante di Piedimonte sotto la direzione di Erminio Cerbasi della sezione di Arezzo. I padroni di casa, dopo quattro sconfitte una dopo l'altra, sono riusciti a centrare una vittoria e contro un avversario agguerrito, il Venafro, aggiudicandosi la gara per 1-0. La formazione avversaria, invece, non riesce a concretizzare i risultati utili da ben cinque turni e gravita nei bassi fondi della classifica a soli 16 punti. È dunque chiamata ad un impegno massimo. Il derby dell'andata terminò con un pareggio. Ad oggi sembrerebbe, invece, favorire la formazione di casa guidata da mister Romagnini. Passando al campionato di promozione, l'Aurora Capriatese, ora a meno tre punti dalla capolista Comprensorio Vairano, viaggerà alla volta dello stadio Vita Antonio di Ripalimosani, dove sarà ospite degli undici di mister Bentivoglio. La formazione di Capriati al volturno è reduce da una vittoria casalinga contro il Baranello, battuto 2-0. I locali, invece, dopo due pareggi, l'ultimo contro lo Spinete, vogliono sicuramente dar seguito alla serie positiva, ma questa volta guadagnando tre punti. E non sarà facile. Ripalimosani-Aurora Capriatese è un match che si prospetta a vincente e che chiama entrambe le formazioni ad un impegno massimo. A vagliarlo sarà Francesco Scarati della sezione di Termoli. Il Baranello, ora a 51 punti, è focalizzato a riscattare il tonfo contro la Capriatese e questa volta sotto la direzione di Nicola Di Mario di Campobasso dovrà vedersela contro il Termoli 2016. Gli Adriatici, reduci anche loro da una sconfitta per 1-0 contro la polisportiva Fortore, dovranno attrezzarsi di impegno e concentrazione contro i ragazzi di Mister Di Chiro, che in questo campionato hanno realizzato una lunga serie di successi, dimostrandosi per gli avversari un vero osso duro. A chiudere il quadro è Cliternina-Biccari. Se i padroni di casa sono a secco di punti da qualche turno a questa parte ed occupano il fondo della graduatoria, gli ospiti pugliesi invece, positivi per il successo contro il 4 Torri Chieuti con il risultato di 2-1 e forti anche della vittoria a campi invertiti, non si lasceranno sfuggire l'occasione di domani contro gli Adriatici. Fischietto di gara Nicola Cannarsa della sezione di Termoli. Si prospetta un weekend davvero ricco ed entusiasmante per gli appassionati di calcio regionale. Tutte le formazioni scenderanno in campo alle ore 15.